Ben trovati anche con la nostra pagina sportiva, in primo piano la sconfitta della Lucchese battuta per 2 a 1 dal Cesena nel suo debutto stagionale al Porta Elisa. Ancora il calcio, Lempoli batte in amichevole, Realforte e Querceta per 8 a 2. Dopo un primo tempo equilibrato, terminato 1 a 1, Lempoli, formazione di Serie A allenata da Aurelio Andrea Azzoli, vecchia conoscenza del calcio versiliese per avere allenato anche il Pietrasanta, si è imposto al Necchi Balloni con il punteggio di 8 a 2. Gli ospiti erano privi di diversi elementi impegnati con le rispettive nazionali senior e under 21 e così è stata un'opportunità per un galoppo senza dubbio importante per verificare la condizione della squadra che dopo il successo in campionato sul campo della Juventus è attesa domenica in casa ad ospitare il Venezia. Il Realforte e Querceta ha dovuto fare a meno ancora dell'attaccante Pietro Pegollo, infortunato, dovrebbe essere pronto per l'inizio del campionato. Un primo tempo equilibrato, come detto, con gli ospiti che hanno sbloccato il punteggio con la Mantia sul calcio di rigore e poi il pareggio è arrivato con Islamai per i ragazzi di Vitaliano Bonuccelli. Poi, nella ripresa, la girandola delle sostituzioni ha messo in campo elementi importanti per l'Empoli come Cutrone, autore di una doppietta, e anche Mancuso, match winner a Torino. Pinamonti ha realizzato una doppietta ex giocatore dell'Inter in prestito all'Empoli. Comunque, alla fine, entrambi i due tecnici sono risultati soddisfatti per questo allenamento che si è sviluppato per il Realforte e Querceta, in attesa della composizione del calendario dei gironi e per quanto riguarda l'Empoli, come detto, per questa partita in casa contro il Venezia. Spazio ai motori. Riccardo Pera trascina il team Ebi Motors al titolo tricolore GT4, vincendo al volante della Porsche Cayman 4 in coppia con Mattia Di Giusto, entrambe le gare sul circuito di Imola. Termina qui anche lo sport, di nuovo una pausa pubblicitaria e poi ci rivediamo nella terza e ultima parte del TG Noi. Grazie a tutti.